Se ti ubriachi, ogni volta che fai serata, non diventi il più simpatico della compagnia e non fai più conquiste. Non c'è nulla di divertente in tutto questo. Vuoi sapere cosa ti aspetta realmente? Se bevi troppo, prima o poi ti troverai da solo. Tutti ti abbandoneranno. Restare solo è molto brutto. Chiedi aiuto. Se ti droghi, non sei alla moda. Se ti droghi, ti spegni per sempre e non torni più indietro. Se ti cali pasticche, non diventi il più figo della compagnia e non dimostri di essere il più forte. Non fai nessun bel viaggio. Fidati. Guarda, guarda! Tre alberi! Guarda tre alberi! Si parlano, si parlano! Staci? Staci? Parlava lui! Ma cosa sta? Che bello! Che peccato! Scusami, è di gomma, è di gomma! Non sballatevi, se no diventerete così. Le sostanze mi hanno mandato in tilt il cervello. È come se avessi momenti di totale blackout. Non ricordo nulla, ho vuoti di memoria. Non riesco neanche a parlare. È come se il mio cervello smettesse di funzionare all'improvviso. E dentro di me restasse solamente vuoto. Mi sento fatto di niente. Ho perso molti ricordi per colpa di cocktail, di farmaci, alcol e droga e di tutte le porcherie che sniffavo. Mi sono ridotto in questo modo. Il mio fegato è marcio, non funziona più. Il mio cuore molte volte va in accelerazione, è come se scoppiasse da un momento all'altro. Soffro di alterazione dell'umore, non so gestire le mie emozioni e alcune volte divento aggressivo, verso me stesso e gli altri. Soffro di trombose agli arti inferiori, le mie gambe sembrano fatte di legno. Il mio addome, per colpa della cirrosi, si è dilatato a dismisura. Oramai i giorni nei quali mi sento bene stanno diventando sempre più rari. Per lo scambio di siringhe ho contratto l'epatite e questo lentamente mi porterà alla morte. Drogarsi non è un divertimento, è un lento suicidio. Ogni uomo per crescere deve attingere la propria fantasia. La droga te la spegni. Ragazzi, non mettetevi alla guida in uno stato d'ebbrezza. Ascoltatemi. Io ho iniziato a fare uso di sostanze e a bere in maniera smodata già dall'età di 12 anni. A 14 anni ricordo un pomeriggio d'estate. Ero completamente ubriaco e ho rubato un motorino. Pensavo fosse un gioco divertente sfrecciare in mezzo alla strada, libero, con il vento tra i capelli. Invece sono andato a scontrarmi contro un camion. L'impatto è stato devastante. Mi hanno portato in ospedale. Sono stato in coma per due anni. Ero clinicamente morto. I medici mi hanno detto che ho riportato un brutto trauma cranico e ho perso la vista dall'occhio sinistro. A causa di questo trauma, la mia vita è diventata un alternarsi di momenti d'apparente stabilità e serenità a stati deliranti e allucinazioni che mi hanno portato ad entrare e uscire dai reparti psichiatrici. Ora che ho 50 anni, mi rendo conto di aver buttato via tutta la mia vita. Non giocare con la tua vita, che la tua vita non è un gioco. Mi hanno parlato di un tunnel fatto di sofferenze. Non ci credevo, ma quando l'ho visto mi sono dovuto ricredere. Se ci sei dentro, non vergognarti di chiedere aiuto. Non bevete, non fate come me, che mi sono beccato la cirrosi. Ragazzi, non fate il mio stesso sbaglio. Io ho il QVRAD, me la sto curando. Sto cercando di curarmela. Usate la testa, buona fortuna e tante cose belle. Non esmenezzan, sia la vita! Non esmenezzan, sia la vita! Non esmenezzan, sia la vita!